tutto avuto inizio 300 anni fa con la scoperta del marchio nero un manufatto alieno sepulto in fondo a quello che era il golfo del messico sulla terra sembrava la chiave per ottenere energia illimitata finché non iniziò a generare demenza e orrende creature che vivevano oltre la morte i necroni i dettagli sulla tragedia del marchio nero originale sono scomparsi inghiottiti da mille cospirazioni non prima però che una nuova religione nascesse per mano di uno dei ricercatori che se ne erano occupati michael altman la sua misteriosa morte lo ha reso un martire dando vita alla chiesa di unitologi si tratta di un'organizzazione segreta che ritiene i marchi di origine divina e punta a ottenere un'unione perfetta di mente corpo e spirito diverse generazioni dopo l'incidente del marchio nero l'umanità si è trovata un passo dall'estinzione per via della carenza di risorse disperati gli uomini hanno cercato di replicare il marchio nero per attingere un'energia illimitata i dati risalenti a quell'era non sono chiari ma sappiamo che le copie del marchio riuscirono a un costo elevatissimo tutti quei marchi furono sepolti nascosti in luoghi segreti sparsi per l'universo nella speranza che li restassero per sempre 200 anni più tardi però durante un'operazione mineraria illegale su eg 7 la nave planet cracker usg shimura ha riportato alla luce una di quelle coppie dimenticate un marchio rosso con esso è iniziata una nuova ondata di infezioni del marchio un superstite di quell'incidente era un tecnico di nome isaac clark il marchio gli parlò direttamente facendogli un dono uno schema mentale della struttura del marchio stesso isaac fu catturato e torturato dal governo terrestre la sua mente esplorata in cerca del segreto del marchio così il programma marchio venne riavviato e ne fu edificato uno nel popoloso sprawl di taita poco dopo accadde il peggio lui riuscì a malapena salvarsi di quel luogo resta solo polvere come era stato per egis 7 da allora la crisi legata ai marchi non ha fatto che aggravarsi isaac clark con la mente toccata dal marchio capace di realizzarlo e di distruggerlo vive in clandestinità deciso a stare lontano dal marchio e da tutto ciò che ha causato esiste però una speranza un lontano pianeta ghiacciato dove 200 anni fa qualcuno in qualche modo è riuscito a bloccare l'azione di un marchio una luce del passato che potrebbe salvare il nostro futuro stai lontano pianeta ghiacciato al permesso della nostra compagione stai lontano pianeta ghiacciato al chilaio continuano a lavorare il nostro fuorio un'esplotente lontano pianeta ghiacciato alle riuscini e'e la lontano pianeta ghiacciato a bloccare Alfa 9, qui Whisky 250. Alfa 9, qui Whisky 250. Serrano, mi ricevi? Tim, oh grazie a te, non l'hai trovato. Trovato? Non è pure ben capito cosa stiamo cercando. Tu segui la posizione in portata. Non posso dirti altro. È da andare subito volando. Cosa? Merda! 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 Ok, Tim. Puoi farcela. Lui conta su di te e tu sei un soldato, giusto? Certo, l'arma non è neanche carica. Oh no. Doc, l'abbiamo trovata. Ben, riesce ad entrare. È sigillato. Guardate, torno, tenete a su un muro. Finalmente delle munizioni. Guardate, torno. Guardate, torno. Luce! Doc, sappiamo come entrare. Bene! Devi cercare un cilindro lungo circa mezzo metro. Lo vedi? Voi! 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 Va! Voi! Ah! C'è solo! Stop! Oddio! Oddio! Finn! Dove sei? Hey, Doc! Sono... sono preso a un dirupo! Ma... ma ho qui... qualcosa! Il Codex! È la chiave della salvezza! Dobbiamo incontrarti al filo il prima possibile! Ah! 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 No! 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 Ottimi giovani soldati! Fino all'ultimo! Generale Mahat! Signore! Dov'è il Dottor Serrano? Il Dottor Serrano, sempre ottimista! Mi ha detto di portare questa roba in città! Ha detto che possiamo farcela, signore! C'è ancora tempo! Abbiamo fatto un casino! E ora dobbiamo fare il nostro dovere! Per il bene della terra e delle colonie sovrana! Ami la terra, figliolo? Tua madre? Tuo padre? Sì... Sì, signore, certo! Bene! Sono felice di sentire! Sì... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Isaac, so che ci sei. Andiamo, rispondi. E va bene. Senti, ho chiamato solo per dirti che io... mi dispiace. Tu abbi cura di te, va bene? Sei Isaac Clarke. Levati dalle palle. Rispondimi! A lui! Che diavolo siete voi? Tiralo su! Su! Non ho molto tempo, per cui sarò breve. Mi hanno detto che tu sei una specie di esperto nel campo dei marchi. Mi hai creato uno. Mi hanno costretto. È stato il vostro governo. E ne hai distrutti due, è per questo che siamo qui. Abbiamo un lavoro per te. No. No! Sono stanco. Trovate qualche altro volontario suicida. L'abbiamo fatto. Prima di perdere il contatto con lei, ci ha detto di cercarti. È lì. Dov'è? Che le avete fatto? Ditemi dov'è! Gli unitologisti sono entrati nella sala interna. Nessuno li ferma! Capitano, non c'è più tempo. Muoviamoci! È là fuori sola, Isaac. Se tu non mi aiuti, io non posso aiutarla. Ok. Ok! Ecco. Andiamo. Ecco. Andiamo.